Sordio sfortunato per il Sora, battuto in casa nella prima giornata del campionato di serie D, girone F per 3-1 dalla San Benedettese, squadra pretendente alla vittoria finale di questo campionato. Partita subito in salita, dopo tre minuti il vantaggio degli ospiti con il gol di Romairone che sorprendeva con un grande pallonetto dalla distanza il portiere del Sora, Crispino. Il quindicesimo arrivava il raddoppio della San Benedettese con Sbardella che anticipava ancora un'altra Scrispino su un calcio di punizione dalla sinistra di Arrigoni. Al diciannovesimo il Tris da parte dei Marchigiani con Tomassini che riusciva a depositare in rete un cross proveniente dalla destra di Cardoni che superava anche in questo caso il portiere del Sora. Sora che cercava una reazione e ovviamente una partita in salita giocata davanti a un pubblico eccezionale quest'oggi oltre 2.000 spettatori allo stadio Claudio Domeni di Sora come non si vedevano da tempo. Nel secondo tempo anche grazie ai cambi di mister Stefano Campolo un miglioramento da parte del Sora che però trovava il gol solo a due minuti dal novantesimo con un autorete di scimia della San Benedettese su un cross di Cancelli la deviazione in mischia del giocatore ospite. Troppo tardi per una rimonta e dopo il recupero l'arbitro fischiava la fine del match la vittoria da parte della San Benedettese un Sora che dovrà cercare riscatto la prossima trasferta in casa del Vasto Girardi.